Un'azienda che, denunciano i sindacati, fattura 4 milioni di euro all'anno e che nel tempo ha ridotto personale e orari di lavoro e che quindi avrebbe tutte le carte in regola per continuare a produrre e invece i libri sono stati portati in tribunale per dichiararne la chiusura. È la Cotto Pratigliolmi di Faella, un caso simile ma non uguale a quello della Bekert. Qui ci sono 55 lavoratori di età simile a quelli dello stabilimento figlinese in Cisano e con una problematica identica, il rischio di perdere il lavoro in età avanzata per la dichiarata chiusura dell'azienda. Oggi in Comune a Piandisco, lavoratori, sindacati e istituzioni hanno fatto sentire la propria voce. Nessun accordo con i vertici aziendali, cassa integrazione per cessazione e attività non confermata e la ormai sembra imminente chiusura dello stabilimento, i punti su cui si è concentrata la mattinata. Cotto Pratigliolmi che però i sindacati dicono avere, nonostante il fatturato, dei debiti con lo Stato. Abbiamo scoperto poi che l'azienda ha comunque dei debiti perché aveva preferito pagare gli stipendi dei debiti e tralasciare quelle che sono le imposte e viceversa. Per cui a fronte di questo ci sono state delle verifiche in azienda da parte degli ormai, ci dicono che sono venuti la Guardia di Finanza, ora noi questo poi certezza assoluta non abbiamo se non quello che ci è stato detto. Fatto sta che l'azienda ci ha comunicato che vuol portare lì in tribunale e che quindi ci sarà l'attività. Sindacati che stavano per raggiungere l'accordo, poi a marzo la situazione è precipitata. Dovevamo sottoscrivere l'accordo, alla fine la bozza d'accordo che a forza di scudi incontri l'hanno raggiunto a metà marzo. Metà marzo in pochi giorni è successo che è stato pignorato una parte del magazzino dell'azienda e dopo pochi giorni anche tutti i conti correnti dell'azienda e della vecchia proprietà dell'equitatore. Questo dovuto ha mancato a pagamento dell'IVA degli ultimi anni. Il debito dell'IVA che ci dicono ammonta qualche milione di euro. Si parla nell'azienda di circa 3 milioni di euro, voi ci dicano questo. Queste le prossime mosse dei sindacati per provare a salvare i posti di lavoro e far attivare la cassa integrazione. Al momento già usciti da questo incontro col sindaco chiederemo una richiesta di incontro al prefetto. Speriamo che ci risponda urgentemente perché purtroppo il fallimento è alle porte perché già ieri l'azienda ci ha confermato che a giorni avrebbe presentato l'istanza di fallimento. Quindi i tempi sono veramente stretti. Sono veramente stretti per provare a trovare qualche soluzione che impedisca a questa azienda storica che darà a vivere a 53 famiglie e a 53 lavoratori e alle loro famiglie di vivere. Sarebbe un dramma sociale che questa comunità non si potrebbe permettere assolutamente.